Ciao a tutti, io sono Alessandro Guzzo e sono lo sviluppatore di The Land of Pain e di The Alien Cube. Mi occupo di tutti gli aspetti dello sviluppo dato che sono l'unico sviluppatore. Il primo titolo che ho sviluppato è stato The Land of Pain che è uscito nel 2017. Oggi vi mostrerò sia un po' di gameplay ma anche le tecniche che ho usato durante lo sviluppo. The Land of Pain è un'avventura horror in prima persona ispirata alle opere di Lovecraft. Ho sviluppato il gioco con il cry engine e la fotogrammetria. Questa tecnica consiste nel scattare una serie di foto ad un oggetto e tramite degli appositi programmi ricostruire il modello 3d per poi importarlo nel mondo di gioco. Con questa tecnica si può importare qualsiasi tipo di oggetto come anche addirittura interi edifici. I paesaggi di The Land of Pain sono ispirati ai luoghi del nord Italia, in particolare all'altopiano di Asiago. L'avventura inizia con una passeggiata nei boschi in autunno. Il primo obiettivo del protagonista sarà quello di raggiungere la sua baita in montagna per poi passare lì la notte. Accadrà presto però qualcosa di misterioso. Qualcosa di inquietante infatti apparirà nel prato davanti alla baita. Da qui in poi il gioco cambierà completamente. Il giocatore dovrà sopravvivere, fuggire da entità sconosciute e capire il significato di quel posto. Ora vi lascio al gioco, grazie a tutti e buona visione. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.